Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qui nel solito, usuale, consueto e a voi ben noto disordine della mia libreria. Allora, 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 allora. Questa sera ho recuperato un volumetto, un volume, di questa collana intitolata Fatti d'arme di una guerra senza fortuna. Una collana edita negli anni 70 dalle edizioni di Cremille, di Ginevra, questo volume risale al 1972, dicevo. Un volume, una collana molto interessante di memorialistica, di divulgazione storica, che racconta quella che fu la partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale. Il titolo Fatti d'arme di una guerra senza fortuna rende abbastanza bene l'idea di quello che ci viene narrato, ovvero sia la sfortuna di un paese che si ritrova per colpa della sua classe dirigente inetta, incapace e presuntuosa, preso in un gioco troppo grande per le sue deboli forze. Qualcuno, sappiamo noi chi, puntò le chiappe del popolo italiano sul tavolo da poker della storia e venne malamente sconfitto perché aveva bleffato con una coppia di due. e più o meno, chissà di Texas Hold'em, sa di che cosa parlo. Va bene? Il libro, questo volume, ci parla di alcuni, come dire, eventi della Seconda Guerra Mondiale. Ci parla del corpo italiano di liberazione, ci parla della resistenza italiana in Tunisia, ci parla del ruolo avuto dall'aviazione durante la campagna di Grecia, ci parla della battaglia dei convogli combattuta dalla nostra marina, ci parla soprattutto del 63esima legione camice nere tagliamento. Una legione della milizia volontaria di sicurezza nazionale che fu spedita da Mussolini in Russia con il corpo di spedizione italiano in Russia al comando del generale Giovanni Messe e che fu letteralmente annientata, si può dire, nel corso della cosiddetta battaglia di Natale il 25 dicembre 1941. Ci fu un attacco improvviso dell'Armata Rossa contro il settore tenuto dall'Oxir e la 63esima legione tagliamento si immolò letteralmente per tre sanguinosi giorni cercando di arrestare, riuscendoci, l'attacco sovietico. Uno dei pochi episodi di rilevanza militare fatti dalle legioni della milizia volontaria di sicurezza nazionale, delle camice nere. Perché oggettivamente, e il libro ce lo spiega più che bene, le camice nere, le legioni della milizia, non è che brillassero propriamente per efficienza bellica e per capacità militare. Tenete presente una cosa, ripeto, a scrivere questa serie di volumi non sono sicuramente personaggi che hanno idee politiche progressiste o che peggio ancora sono comunisti. Chi scrive è evidentemente di destra e neanche tanto moderata, siamo sinceri. Chi scrive queste pagine sulla legione tagliamento? È evidente che non ha in simpatia il comunismo, la bandiera rossa e il pugno chiuso, tutt'altro. Ma con grande sincerità, con grande freddezza, con una buona capacità narrativa, riescono a spiegare i disastri, le falle, i casini, la mentalità, la superficialità con cui il regime fascista volle entrare in guerra. Fino a che lo dice gente chiamata comunista o di destra o bolshevica o quello che cazzo è, o di parte, ci potrebbe pure stare, direbbe qualcuno, ma il fatto che persone, giornalisti, studiosi, storici, memorialisti, quant'altro così, di destra spendano per il duce e per il fascismo parole decisamente molto poco lusinghiere, dovrebbe far pensare qualcuno perché oggettivamente è una collana questa in cui le critiche al fascismo non sono certo leggere. Ripeto, non c'è nessuna simpatia per il comunismo, sia ben chiaro, nelle pagine di questa collana, ma ce n'è meno ancora, se possibile, per il fascismo, per il disastro a cui il fascismo spinse il nostro paese. La storia della 63esima legione tagliamento della milizia volontaria e sicurezza nazionale è interessante perché, ripeto, era innanzitutto forse il miglior reparto delle camicie nere, sicuramente, il più organizzato, quello comandato probabilmente da uno dei migliori ufficiali della milizia, ovvero sia il console Nicchiarelli, che si dimostrò un buon condottiero per i suoi uomini, un buon comandante per i suoi uomini, che seppe muovere molto bene le sue pedine sulla scacchiera del suo settore e che, come ho già detto, il 25 dicembre 1941, la legione, la 63esima legione tagliamento, tappò con un prodigioso valore, con un grande coraggio, la falla che si era aperta nel nostro schieramento a causa di una offensiva, di un attacco sovietico. Era un attacco che doveva servire a far capire ai italiani e tedeschi che l'Unione Sovietica non era ancora morta, che l'Unione Sovietica non era ancora stata sconfitta, che l'Unione Sovietica, che l'orso sovietico era ancora in grado di assestare le poderose zampate. La legione tagliamento, la 63esima legione camice nere tagliamento, durante la battaglia di Natale, si immolò praticamente per un buon terzo dei suoi membri, per un buon e ci riuscì, a un prezzo salatissimo perché praticamente persero circa, tra morti, feriti e dispersi, persero circa due terzi dei loro effettivi e riuscendo però a fermare i sovietici. Grazie, diciamo, alla abilità militare del console Nicchiarelli, il loro comandante, oggettivamente grazie anche al fatto che a comandare l'Oxir c'era quel grand'uomo di Giovanni Messe, il maresciallo, colui che poi divenne l'ultimo maresciallo d'Italia. Messe che, come ben sappiamo, era un maestro della guerra difensiva, era un maestro nel cavare il sangue dalle rape, era un maestro nella cosiddetta guerra di fortezza in cui bisogna saper sfruttare al meglio quello che le possibilità della linea che devi difendere ti concede. Messe organizzò la linea difensiva dell'Oxir in maniera, come sempre, magistrale. La battaglia di Natale del 25 dicembre 1941, costò un prezzo sanguinoso al corpo di spedizione italiano in Russia. L'attagliamento fu praticamente annientata, si può dire, tant'è che con una pietosa ipocrisia gli cambiarono, come dire, addirittura, gli cambiarono addirittura nome passandola da legione a raggruppamento perché, come ho già detto, erano stati letteralmente esterminati, cioè praticamente la denominazione passò da 63esima legione a gruppo camice nere tagliamento perché, come ci spiega l'autore Jean Delavigny, è ridicolo continuare a chiamare legione un povero e sparuto manipolo di superstiti che si fecero massacrare per gran parte durante una delle più feroci controoffensive sovietiche, quella dell'arrestare durante l'inverno l'avanzata apparentemente inarrestabile dei tedeschi e dei loro alleati. Nel settore tenuto dagli italiani la 63esima legione tagliamento tappò il buco in maniera disperata, eroica e coraggiosa. Grazie all'abilità del consul Nicchiarelli, grazie all'eccellente, alla grandissima capacità militare che aveva il comandante dell'Oxir, del corpo di spedizione italiano in Russia, il maresciallo Giovanni Messe, indubbiamente, senza sì e senza ma, il nostro miglior generale, sicuramente, uno dei pochissimi generali all'altezza, uno dei pochissimi generali italiani all'altezza di mostri sacri come Patton, Montgomery, Zoukhoff, sicuramente. La storia della battaglia di Natale, bene o male, è abbastanza semplice da raccontare. Jean de la Vigny in queste pagine ce la narra in maniera breve, concisa, secca, molto diretta, molto, molto, molto chiara. Il coraggio, insomma, la rabbia, la furia, la furia e la rabbia dell'Armata Rossa contro il disperato coraggio dei soldati e dei militi delle camicie nere italiane. della Vigny ci parla anche, soprattutto, di una cosa, analizza in maniera molto chiara una cosa, cioè come il fatto che il tutti a casa dell'8 settembre 1943 fosse già in incubazione nell'inverno del 1941. Tanta gente blatera, bercia, starnazza di tradimento di questo, di quello, di quell'altro. 8 settembre come vergogna nazionale. In realtà, diciamoci la verità, solo lo straordinario senso del dovere del soldato italiano impedì all'esercito italiano di squagliarsi come neve al sole già nel 1942. Perché, e la lettura di queste pagine è, oserei dire, illuminante, perché si parla di eventi, di fatti, di storie, di cose che già testimoniano come nel 1941 il paese fosse già stanco e già non più in grado di affrontare i rigori e le durezze della guerra moderna e le conseguenze della guerra moderna. Tutto qui. Quindi, ripeto, se vi capitasse di trovarli, li trovate spesso e volentieri in bancarella o se no provate a cercare su ebay o provate a cercare su amazon. Una lettura interessante, curiosa, fuori dagli schemi. Ripeto, 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 gente di destra che, a quanto pare con il fascismo sono molto più cattivi dei comunisti di merda come il sottoscritto. E questo qui forse dovrebbe far pensare qualcosa a qualcuno. Pensare. 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 Parola un po' grossa. Pensare. Vabbè, 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 vabbè. Perché, vabbè, si è fatto tardi e, come sempre, vi dico arrivederci al mio prossimo video e grazie per la vostra attenzione. Buonasera.